Perché vendere in Germania? Perché è sempre la locomotiva d'Europa e dal cambiamento strutturale del 2008 ne sta uscendo più veloce e più potente di prima. Allora come andarci per un'impresa italiana? In Germania ha un ruolo fortissimo la presenza delle fiere che sono distribuite in ogni settore merceologico. Fiere moderne, tecnologiche, evolute in cui fare matching tra la domanda e l'offerta. Questo è anche il contributo che ci ha dato Mauro con il suo modello di B2Fair per aiutare gli imprenditori italiani ad incontrare quelli tedeschi. Siamo italiani e in Germania siamo percepiti per quel valore della creatività, della capacità di portare un prodotto che ha in sé una cultura preziosa. Se riusciamo ad andare là con un traduttore e a parlare anche la loro lingua, questo viene percepito con un grandissimo valore di attenzione al nostro interlocutore. Buona Germania!